Il pensiero diventa un'abitudine. La potenza creatrice del pensiero, Amadeus Volben, a cura di VB Mediterranee. Noi non ci rendiamo sempre conto della qualità dei nostri pensieri e della rapidità con cui essi divengono realtà. Una volta abituati ai pensieri oscuri, noi viviamo automaticamente certa maniera di pensare, con effetti nefasti per la nostra esistenza. Per una scelta ripetuta, un pensiero diviene un'abitudine. Un uomo è sereno, giocondo vero triste e inquieto, preoccupato, eccetera, perché intrattiene la sua mente in pensieri di gioia e di serenità, o di inquietudine e di preoccupazione. Il negativo o il positivo, infatti, è un'abitudine mentale che si è stabilita in certuni e si esprime automaticamente. Guardare con un occhio solo e per giunta a quello malato, come fanno i pessimisti, è subire l'influsso del male. Si deve guarire da questa malattia che affligge tanti uomini che potrebbero essere vivificati dalla visione serena della vita, che si rifletterebbe nel loro animo. A chi crede al male e guarda al male, male avverrà. La mente è satura di pensieri negativi, attira nuove forze negative. Credi al bene e guarda al bene. Commento Ma il pensiero positivo è prima suggerito e infine imposto da un'ampia coscienza. Grazie a tutti.